Dottoressa Mosolino, presso il vostro ambulatorio affiliato a Medicop Genova, è attivo un servizio di terapia del dolore neuropatico. A chi è rivolto questo servizio? A tutti coloro che soffrono di dolori cronici neuropatici, tipo il dolore post-arpetico, tipo un dolore legato a una compromissione del midollo, quindi un'ernia discale. E presso il nostro studio attivo questo servizio con l'utilizzo della Scrambler Therapy. È un nuovo apparecchio, in realtà non nuovissimo perché è in commercio ormai da qualche anno, che ha lo scopo di modificare l'onda del dolore. Cioè il dolore viene percepito dal nostro cervello come uno stimolo elettrico. Questa macchina ha lo scopo di modificare quest'onda e quindi far percepire al cervello un messaggio di non dolore. Prendere l'appuntamento presso il nostro studio non è difficile. Noi abbiamo un numero dedicato al quale risponde il nostro fisioterapista, che poi di fatto si occupa di impostare la terapia, trattare i pazienti. La terapia prevede che siano fatte dieci sedute, della durata ciascuna di 30-45 minuti. Alla fine di queste dieci sedute in realtà il dolore viene mitigato in maniera decisa. Il nostro studio è sito in via GB d'Albertis, anzi in via Revelli-Bomont, che è una traversa di via GB d'Albertis. Lo studio appunto è lo studio medico d'Albertis. Noi siamo cinque medici di famiglia che lavoriamo presso questo studio e è facile prendere l'appuntamento.